Wendo dice la tranquillità di avere le spalle coperte ogni stipendio anche se si incartano con poco sì, è chiaro che le garanzie prima Mario non chiedeva come funziona la disoccupazione il fatto di sapere che se tu non ce la fai con i redditi lo Stato ti aiuta che qui c'è un reddito chiamiamo un reddito di cittadinanza per capirci anche se è un'altra cosa c'è un reddito di cittadinanza se tu rimani per strada per strada non rimani e quindi questo questo fa la differenza perché tu non ti trovi con le spalle che dici adesso che faccio io guardate, io quando lavoravo con la ditta Jugoslava, prendevo 1600 1700 euro netti al mese, in più avevo due ragazzi avevo due bambini adesso su due ragazzi, quindi prendevo due assini familiari al mese che all'epoca erano 200 se non ero 219 euro al mese per ogni ragazzo, adesso sono 250 perché quello aumenta sempre e quindi prendevo 1600 più 440 prendevo 2000 euro fai conto, arrotondiamo 2000 euro netti io ho fatto domanda al Job Center non solo mi hanno dato un contributo a fondo perduto per comprare i mobili ho fatto la domanda sono venuti hanno guardato hanno visto che noi siamo venuti i mobili abbiamo lasciato tutti in Italia all'inizio ci siamo arrangiati con quello che abbiamo trovato e ci hanno dato un contributo a fondo perduto per comprare i mobili e in più mi davano 500-600 euro al mese come supporto perché loro dicono per una famiglia di 4 persone con quell'affitto avevamo 700 euro di affitto ha bisogno di queste cifre 2500 euro al mese e lo Stato me lo dà è chiaro che io dovevo portare gli estratti conto dovevo portare devi far vedere è chiaro che se tu puoi ti compri un BMW l'ultimo modello l'ultima serie è normale di un amico mio qui i soldi non li regalano tu devi dimostrare tutte le tue spese e devono essere anche congure nel senso tu non puoi fare una spesa che tu non ti può permettere perché se fai le pazzie le puoi anche fare se vi compri l'iPhone 20.000 non so qual è l'ultimo modello va benissimo lo paghi da solo però lo paghi con il tuo ecco ecco Grazie a tutti